nella lingua dei segni. Può tornare a casa Dora, l'ottantunenne di Camaiore, che da metà febbraio era ospite in una RSA di Aulla, dove non voleva stare. Il giudice del Tribunale di Lucca ha consentito, con una serie di prescrizioni, che la donna potesse tornare a vivere nella sua abitazione. A sollevare il caso di Dora, finito al centro delle cronache, la figlia Anna, tramite l'avvocato Niccolò Domenici. L'anziana, che ha bisogno di essere accudita, è seguita da circa un anno da un amministratore di sostegno, secondo il quale le condizioni fisiche ed economiche dell'anziana sarebbero state incompatibili con la permanenza nella sua casa di Camaiore. Così Dora era stata portata nella RSA di Aulla, dove però non voleva stare. Le ho comunicato la decisione del giudice, riferisce l'avvocato Domenici, e la signora era contentissima. Una mail, committente nascosto, pervenuta stamani alla Scuola Americana International School of Florence, annunciava la presenza di bombe intorno a una delle due sedi dell'Istituto. Bombe pronte a esplodere all'inizio delle lezioni. Sono così scattati una serie di controlli da parte dei carabinieri nei due immobili che ospitano la scuola, che si trovano uno nel comune di Bagno a Ripoli e uno a Firenze. Gli accertamenti hanno dato per fortuna esito negativo. Le due sedi erano state nel frattempo evacuate ed era stato disposto lo stop alle lezioni per l'intera giornata di oggi. La mail sul falso allarme bomba è stata segnalata dai dirigenti della scuola ai carabinieri. I militari, dopo aver garantito il deflusso di insegnanti e studenti già disposto di iniziativa dai dirigenti scolastici, hanno provveduto a cinturare le aree e successivamente, con l'intervento di unità cinofile anti-esplosivo del nucleo cinofili dell'arma e della Polizia di Stato, hanno eseguito una bonifica dei due plessi senza rinvenire alcun ordigno. Commercio online illegale, confiscata merce per 300 mila euro in due anni di controlli effettuati dal personale dell'ufficio di Pisa dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Si tratta di beni che erano in procinto di essere spediti all'estero in totale mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai regolamenti UE. Le merci, nella maggior parte capi e accessori di alta moda, dopo essere state confiscate, sono state vendute e le somme ricavate versate all'erario. I soggetti interessati sono stati segnalati agli organi competenti. paura stamani per quando è andata a fuoco la canna fumaria del ristorante Vecchia Bettola in Piazza Tasso a Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche più pattuglie della Polizia Municipale per regolare la viabilità. L'intervento è durato circa un'ora. due anziani sono rimasti vittima di rapine violenti a Firenze nel giro di 24 ore. Un uomo di 73 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato mentre camminava nel parco delle cascine. È accaduto intorno alle 21 di mercoledì all'altezza della piscina Le Pavoniere. Un giovane prima ha chiesto all'uomo una sigaretta poi del denaro. Infine ricevuta risposta negativa lo ha colpito con un pugno al volto. I carabinieri hanno avviato le indagini verificando anche la presenza di sistemi di videosorveglianza. Scena simile il giorno successivo vale a dire ieri in via Canova quando sempre con il pretesto di una sigaretta un giovane ha avvicinato un ottantenne per poi sferrargli un pugno e strappargli la catenina dal collo. In serata il pensionato ha presentato denuncia alla stazione carabinieri di Legnaia. Anche in questo caso sono al vaglio dei carabinieri le telecamere della zona per individuare il responsabile della rapina. I carabinieri del nucleo beni culturali hanno restituito alla parrocchia di San Lorenzo a Firenze la Madonna di Loreto. Il dipinto rubato lo scorso 15 marzo è ritrovato nel giro di pochi giorni. Il priore della Basilica, Monsignor Marco Domenico Viola, ha ringraziato i carabinieri per l'immediato recupero e ha indicato i danni riportati dalla cornice del quadro, per fortuna riparabili senza problemi, sottolineando come sia stato importante recuperare l'opera soprattutto per la completezza di quanto verrà esposto nei locali della Compagnia delle Stimmate. Dal canto loro i militari hanno rilevato l'importanza del sistema di telecamere interne ed esterne installato dall'opera medicia laurenziana. Pisa torna ad essere la città dei robot grazie alla terza edizione del Festival della Robotica in programma dal 19 al 21 maggio. Numerosi gli eventi pensati per coinvolgere la cittadinanza e far vivere in prima persona esperienze che danno l'idea di un oggi che è già domani, come recita appunto il claim dell'edizione 2023 del Festival. Viviamo oggi il nostro domani. Il programma comprende seminari, talk show, conferenze, laboratori didattici, esposizioni di carattere scientifico divulgativo per rispondere alle aspettative, alla curiosità e agli interrogativi che si pone un pubblico ampio e variegato. Parliamo ora di sport. La Fiorentina è attesa domani alla sfida al Meazza di Milano contro l'Inter. Fischio d'inizio alle 18. La gara è valevole per la ventottesima giornata di campionato in Serie A, la nona del girone di ritorno. I Viola cercheranno di allungare la striscia positiva. Di fronte troveranno una squadra in cerca di punti per consolidare la posizione nella zona Champions, ma che dovrà fare a meno dello squalificato D'Ambrosio e degli infortunati Skrignar e Cialanolu. Dall'altra parte, Italiano perde il secondo portiere Sirigu. Si è invece allenato in gruppo l'argentino Nico González, l'ultimo rientrato a Firenze dei nazionali Viola e il tecnico deciderà solo all'ultimo se impiegare l'esterno offensivo dal primo minuto contro i Nerazzurri. In gruppo anche il difensore Terzic, che a Milano con tutta probabilità prenderà il posto di Capitan Biraghi. Niente da fare invece per Jovic e Kwame, out per i rispettivi problemi fisici. Chiudiamo con le previsioni del tempo per la giornata di domani. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso nelle zone interne centro-settentrionali, con possibilità in nottata e nel pomeriggio di locali piogge o brevi rovesci. Sole prevalente altrove. Venti forti di libeccio sulla costa e sui rilievi, moderati nelle zone interne. I mari saranno agitati sulla costa centrale, molto mossi altrove. Temperature in lieve calo. Vi ricordo che domani il telegiornale Nella lingua dei segni andrà in onda alle 17.15 per lasciare spazio al programma Casa Viola con la partita della Fiorentina. Questa edizione del telegiornale Nella lingua dei segni finisce qui. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.